Buongiorno a tutti, sono Gianluca Malavasi e sono un professore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e sono uno dei docenti del corso che ha per titolo verso la chimica sperimentale, introduzione al laboratorio chimico. Sono uno dei docenti perché, come vedrete, il corso è fatto da più docenti, oltre a me sono anche presenti la dottoressa Francesca Parenti e la dottoressa Laura Pigani. Alcune breve informazioni relative al corso, cioè innanzitutto quali sono i target, di riferimento. A chi è rivolto questo corso? Questo corso sicuramente è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori che si stanno avvicinando allo studio della chimica attraverso un approccio sperimentale che quindi prevede l'utilizzo del laboratorio, dell'attività laboratoriale. è rivolto anche a professori o personale tecnico delle scuole secondarie superiori che intendono avvalersi dell'utilizzo dell'approccio sperimentale durante la loro attività a scuola ed è anche rivolto a studenti universitari che nel loro piano di studi devono affrontare dei corsi di chimica di base in cui è presente un modulo di laboratorio. Com'è strutturato il corso? Il corso è strutturato in sette moduli all'interno dei quali verranno presentate tutta una serie di informazioni e di conoscenze volte ad introdurre l'attività laboratoriale in ambito chimico. Quindi il corso che voi andrete ad affrontare, a vedere ha l'obiettivo primario di dare a chi lo guarda, a chi lo ascolta, a chi ne esufruisce gli strumenti di base per poter entrare in modo consapevole all'interno di un laboratorio chimico. Sicuramente questo corso non vuole essere un corso che sostituisce in maniera completa un corso di laboratorio chimico ma offre le conoscenze e le competenze di base per affrontare in maniera positiva l'attività sperimentale all'interno di un laboratorio chimico. Nei video associati alle presentazioni scritte che voi vedrete non troverete molte facce, non ci sarà diciamo in ripreso direttamente la faccia del docente ma piuttosto vedete delle mani che lavorano, che vi mostrano qualcosa, quindi che operano all'interno di un laboratorio e perché facciamo questo? Perché pensiamo che in questo modo sia possibile trasmettere un po' di conoscenze e competenze riguardanti l'attività laboratoriale e sperimentale in ambito chimico. Spero che il corso risulti efficace e che quindi riesca appunto a raggiungere il suo obiettivo. Le metodologie con cui è strutturato questo corso sono delle riprese video affiancate ad una presentazione scritta in cui sono ripresi i concetti, le conoscenze, le competenze che vi vengono mostrate durante le riprese video. Inoltre mi preme specificare che le riprese video sono state effettuate all'interno di uno dei laboratori didattici presenti all'interno del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Madena e Reggio Emilia che è proprio un laboratorio dove i nostri studenti svolgono in parte le loro attività laboratoriali. Grazie. 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 Grazie.